Ah ragazzi, sto aspettando Jacopo che non viene! Ma da quanto tempo! Ha detto che stava in bagno a casa! Jacopo! 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 Oh, eccomi! Eccoti! Ma da quanto tempo! Stavi in bagno! Mi so avviato almeno per fare presto! Ah, sto prendendo quel bicchieri qua! Jacopo! Vabbè, tu intanto vedi se arrivi a qualche cliente! Io do una pulita a tutto il bar! Dobbiamo essere igienici! No, no ragazzi, dobbiamo essere igienici! Non mi interessa! In questo obiettivo dobbiamo fare tanti episodi! Scusate, in questo episodio dobbiamo fare tanti obiettivi! Ciao ragazzi, io sono Giovanni e oggi siamo ritornati su Brocaven! Come promesso di 10 like! Jacopo saluta! E praticamente oggi dobbiamo trovare una casa! Non voglio vivere più in casa di Jacopo! No, perché gli faccio troppo disturbo! No, non mi interessa ragazzi! Io gli faccio troppo disturbo! Per me poi ti vista pure i 5 anni a casa mia! E vabbè, ma la voglio trovare! Perché sai, non mi piace vivere in casa delle persone! Capito? Ok, Giò! Allora, ti vorrei consigliare! Vai su selezione casa! Aspetta, dobbiamo uscire allora! Dobbiamo, vabbè, andiamo alle case libere! Alle posizioni delle case libere! Oddio, mi hanno fregato la moto! Ok, sì! Dove sto? Mi hanno fregato la moto! Me l'hanno fregato! Da moggo? Andiamo con la tua macchina, va! La voglio vedere! Cioè, voglio salire in casa! Ok, allora! Ok! Allora, la mia macchina... E... ho comprato la moto, ti va bene? Certo! La uso sempre! E va bene, Jacopo! Ne comprerò un'altra di moto! Anzi, al posto della moto vorrei comprare una macchina! Va questo nel prossimo episodio! Va bene, sali con la collina là! Vabbè, non fa niente! Comunque, ragazzi, io vorrei trovare una bella casa che mi piacerebbe un sacco! Quindi, Jacopo mi sta dando alcuni consigli! Va bene, vediamo! Allora, Jacopo... Eh, dove stiamo? Come? Ecco, ecco, ecco che... Scusate, in seguito che sono un po' più politico con la moto! Vabbè! Oh! Eccole! Ci sono dei posti liberi qua! Hmm... Vediamo! Come prima casa... Questo è mio! Ok, tanto sì... Allora, vediamo quali case posso scegliere... Ah, la prima, il camper! Sì, quella costa di meno! Wow, costa solo 700 euro! Adesso vado a pagare al sindaco! Ok? Chiedo il permesso! Capito? Sì, stai facendo finta! Sì, vado all'agenzia immobiliare! All'agenzia immobiliare! Capito? Vado là! Io prendo quella 5 milioni! Eh, 5 milioni! Vabbè, ragazzi! Ho chiesto al sindaco e la posso fare! Oh, yes! Ma poi negli episodi la cambieremo! Va bene, vediamo... Diventerà quella più costosa! Sì, esatto! Per ora usiamo il camper! Ma devo dire che è molto bello! Una casa camper... C'è la jacuzzi! Oddio! Che bello! Che bella casa! Madonna! Ma beh, leviamoci la mascherina innanzitutto! Oh! Guarda il letto! Fammi il rumetto! Rometto! Aspetta! Un bagno? Ma ci possono vedere tutti se facciamo la pipì! Ah no! Questo è un cortile! Pensavo fosse un'altra casa! Wow! E tu dove sei? Oddio, c'è un piano di sopra! Aspetta, ti devo fare il rumetto, Jacopo! Aspetta! Vabbè, saliamo sopra, vediamo! Wow! Che bello! Che casa bellissima! Stupefacente! Oddio! Oddio! Sto scivolando! E sto scivolando! Aia, mi son fatto male! Vabbè! Comunque, Jacopo... L'ho fatto il rumetto? Sì, l'ho fatto! Comunque, ti voglio invitare a cena! Eh, tu intanto accomoda, ti fa come se fossi a casa tua! Intanto vado a cucinare! No, aspetti! Devi togliere i panni per farti il bagno nella jacuzzi! Eh, vado a inserire i panni per la mia! Va bene! Ah, dopo la voglio vedere! Aspetta, ma è la stessa e l'altra volta! Ma che dico? Sì, è quella che costa 10 milioni! Dai, Jacopo, è pronto! Cocinato la carne con i broccoli, vicino! Buoni! Ok, pensavo che odiassi i broccoli, lo sai! Eh? Pure per me, pensavo che io gli avi tu! Vabbè, dai, vieni! Perché cammini all'indietro come i panni? Vabbè, tu non ti sei ancora levato la mascherina! Stai in casa mia! Scusa! Vabbè, non fai niente! Aspetta! Va bene! Ma perché? Ho chiuso la porta e si apre? Vabbè! Vabbè! Si apre la porta! Vabbè! Io ho cucinato! Ho cucinato per la prima volta in casa mia, lo sai? Va bene! Accomodati, va! Ok, io ho finito! Ma Jacopo, dove sei andato? Jacopo? Ma perché stai sul letto? Non ti ho visto! Che fai? Stavi dormendo? No, ti ho rinascosto! Ah, ti ho rinascosto! Va bene! Andiamo al lavoro che sono le 6 di mattina? Sì! Andiamo! Ui! La mia moto, aspetta, la mia moto la prendo subito! Cannot spawn at the location? Usiamo le nostre due moto! Vai! Ok! E non mi ricordo più dove è il bar però! Seguile! Va bene! Ah, dopo che torniamo ci facciamo un bagno nella jacuzzi! Sì! Ok! Oddio, c'è un poliziotto! Eh... Salve, stiamo andando al lavoro! Aspetta, io lo scrivo! Il gifo di uno squalo! Va bene! Salve... Agente! Salve, agente! Va bene! Grazie! Io vado! Scusa, pensavo che mi voleva arrestare! C'avevo un mp4 in mano! Jacopo, dove sei? Stai già al bar! Stai già al bar! Ma perché arrivi sempre prima di me? Ah no, prima non eri arrivato prima di me! Occupada! Ma che ha scritto questa? Vabbè, io parcheggio sempre nel posto delle macchine elettriche! Oh! Scusa, se ti ho rotto la moto! Vabbè, parcheggio qua! Chi se ne? Parcheggio qua! Va bene! Brooks Dinner! Kitchen Special! Un buon steak! Ma che vendiamo? Scusa! Ci sei waffle! Che vendiamo? E io? Vendiamo i waffle! Vabbè, io aspetto qualche cliente! Aspetta, scrive in chat! Chi vuole venire al mio... Anzi, no! Al nostro... Brooks Dinner! Eccoci! Ah, ecco! Qualche cliente! Salve! I ricchi! Sono ricchi! Sono ricchi! Dobbiamo vendergli qualcosa! Il McDonald's! Il McDonald's! Il McDonald's! Il McDonald's! Dobbiamo vendergli il McDonald's! Vabbè, ma quanti che sono? Mangiate, scemi! Io vi faccio la guardia! Oddio, ma questi son ricchi sfondati! Hanno pure una guardia del corpo! Che è? La gente 47! 007! No, 47 è Hitman! Quello là, tutto pelato! Oddio! Luna è salita! E cosa vuole da una ciambella? Allora, vuole una ciambella e un caffè! Subito! Vaffanculo, ti potessi uccidere! Ciao! Arrivederci! Perché? Che fai? Scappa! No! No! Così perdiamo il lavoro e ci licenziano! Ma che? Che fai? Non ho bloccato la macchina! Che fai! Che fai! Lo volevo raffinare! Ragazzi, sedetevi! Ma siete ricchi sfondati! No, stronzati! No, basta! Ma siete ricchi sfondati! Il poliziotto sta pensando, sta pregando! Vabbè! Dustin, Jessica... Che carini i bambini! Ho fatto anche rima! Bambini! Che carini i bambini! Cazzo! Perché? Perché? Io vi farei da guardia se volete! No! No, 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 no! Che succede? No! Ma no, non era rivolto a te che era la guardia! No! Sì! Grazie! Ma che volete? Se no vi caccio! Se no... Non volete niente vi caccio! Ma che vete? Ciao! Non volete niente vi caccio! Che ho scritto? Scusa! Ma che vete? Se non vete niente vi caccio! Che ho scritto di male? Fa anche io... Fa anche lo! Bambini, farete in ritardo a scuola! Andate! Fate... Andate! Fate bene! Andate! Fate bene! Andate! 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 Vedete! Ho creato un meme, secondo me! Dustin! Lavora con noi, Dustin! 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 È un nostro nuovo dipendente, Dustin! Vero, Jacopo? Aspetta, ma lui è un vestito adatto! Ci dobbiamo vestire come Dustin! Capito? Con colizzi! Vattene! Ma vestiamoci come Dustin! No? Vattene! Ma no! Perché è un nostro dipendente! Lavora qua! Va! No! No! Il nostro dipendente lavora con noi! Non me ne frega niente! Ma c'è una bimba qua! Bimba! Vattene! Ti sei persa! Vabbè! Ti sei persa! Si è persa una bimba! La portiamo a casa! Che pensi? Sono... Il... Capo! Non è scema! Sono il capo! No! Mi hanno rubato i soldi! Ma va! Sono ricchi sfornati! Ma no! Questi! Un tizio! Andiamo a casa direttamente! Mi hanno rubato i soldi! Dobbiamo andare a casa! Dobbiamo andare a casa! No! No, no! Jacopo! Dobbiamo andare a casa! Dai! Vieni! Vattene! Vabbè! Vabbè! Lascialo perdere! Andiamo a casa e scappiamo! Chi se ne preva se prende il mio! Chi è tosata! Jacopo! Adesso viene a casa! Calmati! Jacopo! Calmati! Abbandona il lavoro! Lo fa dati! Mi sono bemmo giumpa! Ma che fanno? No! No, no! Tu me l'hai combinata! Levatevi da casa mia! Scemi! Ah! Ah! Non è questa casa mia! Scusa! Mi sono confuso! Vabbè! Jacopo! Mi hanno rubato i soldi! Perché ho lasciato la porta aperta! Guarda! Tutti possono entrare! C'ho la seifa aperta! Tutti possono entrare adesso! Vabbè! Jacopo! Dai! Vieni a casa mia! Ti aspetta! Ah! Ragazzi! Eccolo! Lo vedo! Senti! Jacopo! Io voglio... Senti! Io non ho mai cantato in vita mia! Ci voglio solo provare! Ok? Quindi canti male! Allora! Se canti male! Io ti sparo! Con questa! Ok! Jacopo! Ci provo! Aspetta! Aspetta! No! Non sto ancora cantando! building! Chep! Aspetta! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che pensi? Ci andiamo a fare? Ma come fa schifo la mia Yacuzzi? Dai, ci ho pagato 500 euro. No, tu hai fatto schifo. Vabbè, voi ragazzi però sono stato bravo. Sono stato bravo a cantare. Vabbè, ve lo dico alla fine del video cosa ho fatto. Dai, facciamoci un bagno nell'aria Yacuzzi, Jacopo. Togliti i vestiti e ci guardiamo il bagno. Metto il colore verde che è il mio preferito. E poi cambiamo nel tuo colore preferito. Ma ci sono solo il rosso, il bianco, il viola e il verde. Che mettiamo? Vabbè, tu intanto dormi nella Yacuzzi. Attento a non annegare. Che mi sei molto grato, Jacopo. Quindi non voglio che muori. Ok? Come ho finta che fanno pure la morte mia? Eh, no. Perché ho registrato tutto. Sto scherzando. La morte tua? Come la morte mia? No, no. Non voglio che muori. No, perché sennò... Come continuiamo la serie? Tu sei uno dei pezzi forti. Alla fine? Alla fine io... Ragazzi, sta scherzando. Non farà mai questa cosa perché sennò la ammazzo io. Non si uccide da solo. Vabbè ragazzi, io adesso mi andrei a vestire perché vorrei concludere il video. Abbiamo comprato una casa camper ed è bellissima. Io pensavo il camper di Uncle Grandpa. No, sto scherzando. Non lo posso mai avere. È troppo magico per me. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un piaccio e iscrivetevi al canale. Un saluto da me, da Apity e Jacopo. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao!